Quest'anno le giornate FAI di primavera compiono 30 anni, per cui è un anniversario molto importante ed è un momento in cui si può riflettere anche su tutti i risultati che il FAI ha ottenuto. Ma più che festeggiare vogliamo proprio riflettere invece sull'importanza del nostro patrimonio d'arte e natura, sul valore identitario che questo bene ha e sugli insegnamenti che i monumenti, gli edifici, le chiese possono darci come riferimento per avere maggiore consapevolezza del valore di questi beni che rappresentano proprio la nostra storia. Nella nostra provincia tante aperture, coinvolti molti borghi e piccoli centri. Partiamo quindi da Villa Severi, che sicuramente è l'apertura delle aperture più importanti che faremo qui a Pesaro. Una villa che conserva una collezione d'arte molto importante, la collezione di Meuccia Severi, che fondò la fondazione nel 2008, proprio perché voleva lasciare alla cittadinanza questo patrimonio da ammirare, da conoscere e proprio anche come un insegnamento al bello e al gusto che contraddistingueva la proprietaria stessa che da sola si era occupata di collezionare questi beni, così come aveva disegnato la villa, la piscina e tutto quello che ci circonda. A Pesaro poi ci spostiamo nelle colline, nelle prime colline, nei dintorni e quindi apriremo a Candelara sabato e domenica invece saremo a Ginestreto. A Candelara visiteremo il borgo e avremo modo nel pomeriggio alle 16.30 di fare alla Pieve di Santo Stefano una conversazione sulla chiesa di San Francesco, una chiesa abbandonata al centro del borgo che sta per beneficiare dei fondi del PNNR, Villa Montani, che sapete è sede della fondazione Scavolini, che ha gentilmente concesso questo luogo, una villa chiaramente che ha una lunga storia e che conserva al suo interno dei segni decorativi, probabilmente che sono di mano o di Gianandrea Lazzarini o di qualche suo allievo. C'è la Pieve Vecchia di Ginestreto che è un'apertura secondo me sorprendente, perché è un luogo che è caduto nell'oblio ma che in realtà conserva al suo interno dei magnifici esempi di pittura votiva rinascimentale, che furono restaurati nel 1992-93 proprio sempre grazie alla fondazione Scavolini. Avremo con noi Rosaria Valazzi, all'epoca soprintendente che aveva curato i restauri, e grazie a Callegari che li aveva studiati, così come la restauratrice di questi dipinti. Apriremo ad Urbino tre importanti beni di proprietà dell'Università di Urbino Carlo Bo, quindi la Biblioteca di San Gerolamo, Palazzo Albani e l'Orto Botanico. Avremo poi aperture a Fano, dove i visitatori concentreranno la loro attenzione sulla piazza 20 settembre e quindi su tutti i beni che si affacciano su questa piazza, con particolare attenzione anche ai beni archeologici nascosti nel sottosuolo. Andremo a Fossombrone, dove tra le passeggiate e le visite di beni storici e artistici mi preme sottolineare un percorso particolare, nuovo, acqua e seta. Cioè si parlerà della laboriosità delle donne forsempronesi che si erano occupate della produzione della seta, che a Fossombrone è andata avanti fino al 1953. Apriremo a Cagli il torrione di Francesco Di Giorgio Martini e la rocca sempre di Francesco Di Giorgio Martini e si potrà per la prima volta percorrere il soccorso coverto, che è un percorso di 365 gradini che porta dal torrione appunto fin sotto la rocca. Abbiamo Macerata Feltria, per esempio, è una nuova apertura quest'anno per la prima volta. Lì parleremo delle due chiese conventuali di San Francesco e Santa Chiara. Abbiamo naturalmente l'Amoli, il luogo del cuore per eccellenza. Montefabri sarà un'altra apertura molto carina, questo piccolo borgo che è rimasto intatto nel tempo, quindi ancora il suo impianto medievale perfettamente conservato.